Partono i lavori del nuovo mercato coperto di Prea a Mare. Da stamane l'intera area è stata recintata. La nuova struttura sorgerà nella zona adiacente alla chiesa Sacro Cuore di Gesù e dopo lo smantellamento del vecchio impianto la zona era diventata un ampio parcheggio. Secondo il progetto la nuova struttura prevede al centro una piazzetta coperta attorno alla quale sorgeranno 10 box per la vendita di frutta e verdura. Non mancheranno anche i servizi igienici. L'opera dovrà essere consegnata entro 240 giorni, 8 mesi circa ed avrà un costo complessivo di 500.000 euro per il quale il comune di Prea a Mare ha acceso un mutuo che sarà coperto per il 70% dalla regione Calabria. Per quanto riguarda l'assegnazione dei 10 posti ci sarà un regolare bando. Un'opera importante ed utile per l'intera comunità ha detto Mauriziarieta, assessore ai lavori pubblici nonché vice sindaco del comune di Prea a Mare. Come amministrazione abbiamo messo la parola fine ad un progetto ampiamente dibattuto fin dal nostro insediamento. La vecchia struttura fu demolita nel 2008 anche se come polo commerciale aveva smesso di funzionare da quasi una quindicina di anni a causa della presenza di Ethernet ed Amianto nei pannelli che formavano la copertura. Con l'avvio dei lavori si chiude un iter progettuale lungo e travagliato. Subito dopo la demolizione del vecchio complesso infatti si pensò alla ricostruzione. Il progetto è però rimbalzato più volte dall'amministrazione comunale alla regione Calabria. Oggi, a quanto pare, la parola fine.